E' iniziato il cammino di estra alla multiutility toscana che si occupa di energia verso Piazza Affari. Dopo il via libera del Consiglio Comunale di Arezzo con una delibera autorizzativa, la società si avvia verso la quotazione in borsa. I prossimi passaggi prevedono il voto dell'Assemblea dei Soci dell'azienda Coingas, Consiac e Intesa, aziende a capitale interamente pubblico e partecipate da 97 comuni toscani. In questo percorso andremo a ridefinire gli accordi di questa maggioranza pubblica che rimarrà tale anche all'indomani della quotazione ma che dovrà operare come un solo uomo. Per operare così serve un accordo forte che preservi nel futuro l'interesse pubblico e territoriale di questa azienda che per quanto ci riguarda rappresenta il miglior valore economico anche nel senso commerciale del termine. Questo sarà invece il ruolo di Arezzo e del territorio nel futuro di estra. Ruolo da protagonista è su quello che lavoreremo, di maggiore protagonismo dentro estra, credo che la mia presidenza abbia marcato la differenza, una maggiore operatività di questo territorio dentro un'azienda che ormai è di dimensione nazionale. Per una volta Arezzo esporta un'importante azienda che orgogliosamente nasce anche qui e che sta arrivando in tutta Italia. Ho inteso dopo la delibera retina di fare un'assemblea di indirizzo il 20 febbraio prossimo 21 anche per informare tutti gli altri comuni qualora non avessero ancora votato oppure avessero anche votato ma spiegargli bene l'operazione, quello che andiamo a fare, voglio un mandato abbastanza forte e poi successivamente la porterò in delibera. Ovviamente noi come Coengas intendiamo appoggiare la quotazione in borsa di estra, ricordo che i benefici per i comuni sono notevoli, innanzitutto avranno delle quote di una società che è leader nel settore energerico, in un mercato leader nel settore energerico, avranno utili raddoppiati rispetto a prima e un beneficio immediato economico derivante appunto dalla quotazione.